È già il 24 luglio, mamma mia come vola il tempo ragazzi! Tra un po' diremo tra tre settimane inizia il campionato e speriamo che sarà un grande campionato. Come è stato? Un saluto a tutti, un buon lunedì, una buona settimana, una giornata importante. Mi raccomando, commentate, lasciate un like numerosissimi, iscrivetevi da questa parte che come dico sempre, chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano. Siamo sempre più numerosi, fate vedere che siete milanisti, milanisti non si iscrivono, se amate il Milano, i colori rossoneri, siete al posto giusto al momento giusto che non si iscrive ti fa i colori nerazzurri della seconda squadra di Milano, Materazzi, Rubensosa, Zanetti, eccetera, eccetera. Vediamo quanti siete. Allora ragazzi, dico subito una cosa. Vedete, non ho grandissime occhiaia, non mi sono svegliato alle quattro, mia moglie mi avrebbe ammazzato, quindi no spoiler, no spoiler, non ditemi com'è andata la partita stanotte, così che tra poco posso rivedermela e nel prossimo video, insomma, dirò le impressioni di punto di vista, quindi non ditemi com'è finita, chi ha segnato, eccetera, eccetera, proprio voglio vederla, me la sono registrata come se fosse tra poco in diretta, purtroppo alle quattro di notte, insomma. Non sono riuscito, ecco. E quindi vediamo un po', chissà come è andata, non ho sensazioni, non ho guardato nulla sul telefonino, e quindi vediamo tra poco. Magari anche qualcun altro come me, quindi ci sta che anche io non ho spoilerato anche ad altri, che voi non spoileriate anche ad altri. Allora amici, giornata molto importante, c'è una situazione che dobbiamo chiarire, si parla dell'Arabia, adesso sviluppiamo tutto, ma siete tantissimi, tantissime domande, anche sul nuovo canale Telegram, dopo vi spiego come si fa a iscrivervi se volete, i capelli hanno fatto nottate invece. Rispondi in questo video alle vostre domande, vi do ovviamente anche le notizie, in quelle che potrebbe essere una giornata importante. Non vedo l'ora che cominci la stagione, sono sicuro che i nuovi acquisti faranno molto bene, avremo una squadra super competitiva in Italia e in Europa, forza Milan. Non ho nulla da aggiungere, chi incontro, chi sento su Whatsapp i vostri commenti, noto tanto, tanto entusiasmo e sono molto contento, ne avevamo bisogno. E poi Matteo, dobbiamo pensare a vendere e pareggiare un pochino il bilancio tra entrate e uscite, pensi che sia possibile sperare in un grande Emiliano recupera palloni? Io voto Amrabato tutta la vita e servirebbe. Amrabato mi piacerebbe tanto, mi piacerebbe molto come recupera Polonia anche Juhlmann, però come centrocampista a primo obiettivo c'è Musa, che ieri tra l'altro non ha preso parte a allenamenti con il Valencia e Svizzero, ufficialmente per un fastidio al ginocchio, chiaramente perché insomma non si vuole rischiare, il giocatore comunque con ogni probabilità vestirà il colore rosso neri. Però ci possono essere delle sorprese, ad esempio Daniele Michele di Gravenberg è ancora aperta, diciamo che non è chiusa, non è spalancata, è un'opportunità che eventualmente si può creare ad agosto. Emina vuole cedere ai giocatori perché poi si creano anche delle opportunità, diciamo più per il discorso attacco. Adesso ne parliamo. Assieme alle uscite delle esubere all'arrivo di Musa e Calafiori? Su Calafiori non sono sicurissimo. La ciliegina per me sarebbe Fresneda come co-titolare di Calabria, che ne pensi? Fresneda mi piace molto, è giovane, diciamo che ha caratteristiche atletiche fisiche meno performanti rispetto a Singo, però ha un futuro che secondo me lo può portare ad alti livelli. C'è concorrenza, però piace molto, piace molto a Moncada ma non solo. Vasquez verrà ceduto, credo proprio di sì, a rispetto di un inizio di mercato un po' titubante, scrive Alessio, Furlani si è mostrato abile e capace di acquisito credito ai miei occhi, speriamo continui così. Anche io lo spero e spero che poi Pioli sarà bravo a trovare la maglia, ma adesso vi spiego perché è un giorno importante e perché si parla anche di Arabia e non solo. Che differenza c'è tra il mercato fatto da Vassone e Mirabelli e quello attuale, nel senso non c'è sempre quel rischio di comparare troppi giocatori nuovi, ma diciamo che c'è sempre quel rischio. Però dipende anche di chi compri e chi sta in panchina. Comunque è chi hai già in squadra. Cioè quel Milan non aveva giocatori forti che questo Milan ha. Mignan, Teo, Leao, sono giocatori forti. Benassare quando rientrerà. Quindi c'è già un'ossatura che in quel Milan non c'era. E poi si prendono giocatori che devono dare tanto. Bonucci non c'entrava niente con noi, non fatelo più nominare. Bigler è arrivato. Sugli altri, insomma, hanno sbagliato il tipo di profilo, ecco. Quindi io sono molto più fiducioso questa volta. Per la fascia sinistra potevamo riprenderci Kerkez. No, perché l'hai venduto a due, non te lo ricompri a quindicino anno dopo. Fare crescere Zeroli e Bozzolan ed altri primavera. Zeroli anche a me piace molto, anche Bozzolan per carità. Su Singo, avere lui da un lato e Teo dall'altra sarebbe tanta roba. Beh, avere da un lato Teo e Leao, dall'altro Singo e Ciucquezze, però si è davvero molto sbilanciato, ecco. In ogni caso c'è questa possibilità concreta, però per Singo mi dicono che è più un discorso da agosto. Dominguez per il centrocampo sarebbe il top, conosci già il nostro campionato, è forte, nei ultimi due anni è maturato molto. Sono molto d'accordo con te, piace molto anche a Pioli, però sulla notizia dobbiamo restare in questo momento più su Musa. Ha più senso usare come modulo il 4-2-3-1 perché poi si riesce a incastrare alla perfezione tutti gli acquisti, o 4-3-3. Allora, secondo me, se hai così tanto popò, così tanto bene, così tanti giocatori forti là davanti, è un peccato lasciarne in panchina due alla volta. Quindi farei 4-2-3-1, però in mezzo al campo trovare l'equilibrio non sarebbe facile. Diciamo che entrambe le situazioni alternandole. Icardi, qualcuno lo propone, Minan ritiene che Icardi non sia un profilo da Minan oggi, per tanti motivi. In Turchia ha segnato, però insomma vanno anche pesati i gol. Bisogna capire se lo scorso anno è stato un problema di giocatori o del mister. Diciamo che un po' tutto, anche nello spogliatoio, non c'era l'armonia tra guida tecnica e certi giocatori, guida tecnica e area tecnica, insomma speriamo davvero che possa essere una bella annata. Questo Minan dove può arrivare? Beh, io non credo fisso che è la seconda stella. In Champions vedremo. Ma Corunici, visto che molti lo considerano addirittura un giocatore di calcio e un paladino d'equilibrio che dispensava in ogni gara, perché nessuna squadra sia avanti per lui? Ma un po' è generoso secondo me. Corunici credo che giocherà soprattutto molto all'inizio, in attesa che gli altri si inseriscano. Per me è un giocatore sottovalutato che nel mio Minan è riserva, non titolare. Perché non vengono? Beh, anche per Benassera allora non sono venuti al momento. Insomma, direi che io me lo tengo stretto. Se fosse rimasto a Madini avremmo fatto questo tipo di mercato? No, ma io ho la sensazione netta che a Madini non davano più anche le risorse economiche proprio perché lo volevano far fuori. e quindi insomma si è svoltato anche il livello di investimenti perché questo Minan vuole fare bella figura ed è tutto bello in armonia perché sono tutti della stessa anima, ecco. Madini con la proprietà non andava d'accordo. Una volta preso ciucchezze, del quale adesso vediamo delle novità, il mercato del Minan si chiude, non pensi che sia troppo votato l'attacco con tutti i rischi del caso, sì. Ci dovrebbe un giocatore alla che sì, dice. Beh, direi che il Minan è votato l'attacco, mi è stato detto che si vuole fare una squadra votata l'attacco, però l'equilibrio è fondamentale, quindi va trovata la quadra. Tu puoi aggredire, puoi essere padrone, ma devi trovare l'equilibrio. Non so ancora come più a lì lo voglia trovare. Bartolo dice non sono così scuro che abbiamo chiuso per Samuel Cicquezze, Villareal, Bottega molto particolare, adesso ne parliamo. Se dovesse arrivare Musa potrebbe essere, data qualche chance a Zeroli, si dice che abbia stregato Pioli. Piace molto, l'altro ha fatto un bel gol l'altro giorno, di testa, e spero che possa essere magari il terzo del Vivaio Milan, perché no? Visto che il Barcellona sta prendendo la prestito, dica sì, perché non farci un pensiero? Ah, io lo farei tutta la vita. Lui tra l'altro tornerebbe molto volentieri, però in questo momento non c'è molto, bisogna restare più su Musa. Se Cicquezze è così forte, perché nessuna big europea l'ha trattato preso? Ma può valere anche per tanti. Diciamo che si sono spostati anche giocatori magari più pronti. Penso ad Asensio, ci sono squadre top che li hanno già giocatori, quindi non hanno necessità di prendere un giocatore sulla destra. tante valutazioni che vanno fatte, poi speriamo di essere più bravi. A me è un giocatore che fa impazzire. Ma arriva o non arriva? Si è parlata ieri di una proposta araba, adesso lo sviluppiamo. Un centravanti forte fisicamente, Stefano serve, poi i giocatori possono rifiutare il prestito, certo, certo, assolutamente sì. Slalom Cicquezze non è male, non è male, Luca come soprannome, però potrebbe esserci magari qualche altro consiglio. Radde Cronici, Pobega e Musa sono mezziale, pur rendersi definito lui stesso offensivo, siamo un po' troppo offensivi. Sono d'accordo con voi, qualcosa non torna. Qualcosa non torna perché manca il giocatore difensivo davvero. Vero che poi, quando torna Ben Nasser, ragazzi, Loftus-Chick, Ben Nasser, Renders, Musa se arriva, Ben Nasser non ci voleva quale infortunio, altrimenti saremmo al top, top, top. Manca un vero bomber, Lukaku proprio no? Allora, io su Lukaku ho speranza, adesso c'è stato questo rilancio arabo, vediamo, quando mi davate per il pazzo, vi avevo detto, guardate che Fulani ha chiamato il suo entourage, ha chiamato il Chelsea, vediamo, potrebbe essere con l'occasione d'agosto, se lui nel frattempo non va altrove. Speriamo che le vicuquezze, che non ci facciano uno scherzetto, adesso rispondiamo, 3-4-2-1 o 3-2-4-1 o 4-2-2-2, insomma, più le deve sperimentare, bisogna fare bene, serve subito il cittrocampista, secondo me, necessità, abbiamo abbastanza coperta, quindi Milan vuole che Lim abbassi il prezzo di Musa, e può aspettare anche opportunità, tipo Gravenberg, ma non solo. Tanti chiedete di che sì, tanti, tanti lo chiedete, quando sarà pronto un nuovo stadio, allora, il Milan dovrebbe fare altre tre campionati, ne parlavamo ieri, e poi sarebbe pronto, primo mattone, gennaio 2025, a San Donato. Poi ancora, se si pensa a Scamacchi, io lo lascerei stare, punterei sul nostro Lorenzo Colombo, io credo che Colombo abbia bisogno di fare un altro anno altrove, prenderei Scamacca, che per me è un giocatore sottovalutato, che ha caratteristiche fisiche, tecniche notevoli, e secondo me sarebbe da lavorare, sarebbe interessante, Colombo ha bisogno di giocare ancora un altro anno altrove, per quanto mi riguarda. Poi, come siamo messi agli italiani per l'Iso UEFA, non vorrei arrivassimo con il fiato corto. Vivai o Milan, Caldara, sì Caldara, Pobega e Calabria. Colombo no, perché è una situazione dei molto giovani, quindi lista extra. Lista italiana, Mirante, Sportiello, Florenzi, oggi c'è Caldara, ma non lo vogliamo, quindi manco uno slot, da quel punto di vista. Siamo più messi in male dalla sequestrione list Milan, Vivai o Milan. Con i soldi CDK, io righi, riuscissimo a prendere un terzino destro titolare forte, una punta non ci fermerà bene nessuno. Che dici? Sono d'accordo soprattutto sulla punta, sulla destra, credo che arriverà qualcuno comunque, quindi spero che si possa ricavare qualche soldino qua e là. Graveber, che detichette che a fine mercato in prestito sono opportunità che non vanno assolutamente trascurate, anche se non è che Tichet non convince a pieno, però abbiamo preso anche Okafor, quindi ci sono tante possibilità. Il centrocampista che pensi sarà, secondo me, Musa. Poi magari non è l'unico, perché anche Adlè in uscita, se tu giochi con i tre, devi averne sei, Krunic, Pobega, Musa, Love to Cheek, Reinders, e Ben Nasser, che rientra a gennaio, vediamo se magari c'è spazio anche per un altro. Non è meglio Graveber che in prestito, a me piace più Graveber che di Musa, sì, direi di sì, hanno caratteristiche però diverse. Scamacca con una vendita di Chetelare, ieri si parlava anche del West Ham su Orighi, capite insomma che. Milan, clamoroso, scrive Saverio, se spazia ancora per un'altra ciliegina, io credo proprio di sì, e sarà ad agosto. Questa non è l'ennesima dimostrazione che tutto passa, ma al Milan resta, Michael sì, effettivamente sì, effettivamente un mese dopo siamo qui tutti contenti. perché è brutto, cioè certi giocatori passano, certi dirigenti purtroppo passano, ma rimangono nel cuore, però il Milan resta, e ci si affeziona anche al nuovo per il bene del Milan. Nzolae, Diano, Wai come 9 è possibile, mi sembra troppo, sinceramente mi sembra troppo, mi sembra sinceramente troppo, perché costa. Magari, ragazzi, Wai mi piace molto, Yulmanda, visto che siamo molto sbilanciati, sono molto d'accordo con te, Milanello non risponde, dovrebbe chiamarsi, l'importante è che ci siano interazioni per il canale. Silvio, non hai capito il format, io rispondo nei video a Milanello risponde, non ai messaggi. Tanti su Lukaku, io sono assolutamente favorevole, Mbappé un domani, ma non adesso, provare Salemakers centrale di centrocampo a far legna, no, non è il suo ruolo, tra l'altro in giornata credo che vi darò novità, su Salemakers. E poi Alessandro, anche lui dice un Mirabelli Miss, spero di no. Il prossimo video con Carlo Pogliani, spero questa settimana, sono molto curioso di coinvolgerlo. Un'operazione sulla destra verrà fatta, un TT è andato a Lille, quindi non può venire al posto di Calabria. E poi l'amico spiega la questione Lister. Giornata importante, perché oggi non è un giorno da dentro o fuori, però è un giorno molto importante, nel quale mi aspetto la fumata bianca per ciocquezze. Se si dovesse arrivare a domani o dopodomani, significherebbe insomma che qualche rallentamento c'è stato. Ieri qualcuno insomma da radiomercato si parlava di un'offerta araba per ciocquezze che sta facendo, questo clava arabo sta facendo di tutto per provare a portarselo lì. A me sinceramente non risulta questa notizia, notizia che rispetto, potrebbe anche essere vera, a me non risulta, quindi mi aspetto che oggi possa essere il giorno di ciocquezza al Milan, sperando che questa proposta araba non sia vera. Personalmente non ho trovato conferme, però ecco, magari arriva dal mondo arabo e lì sinceramente non ho al momento grandi relazioni, sono con l'amico Sultan che coinvolgeremo presto sul nostro canale per la questione societaria. Quindi oggi speriamo possa essere il giorno di ciocquezze, riteniamo che possa essere il giorno di ciocquezze e se arriverà ciocquezze, pam, esplodo di gioia, perché per me è un giocatore fortissimo. Quindi, ricapitolando ragazzi, c'è fermento, ci sarà una ciliegina ad agosto, un'opportunità, ognuno ha la propria ciliegina di preferenza e vediamo appunto oggi, perché credo che qualcosa in uscita stia accadendo, più tardi vi darò altre situazioni. Non spoilerate, mi raccomando, ci conto e più tardi aggiorniamo ovviamente anche sulla partita con il mio punto di vista e ci scateniamo. Iscrivetevi al canale Telegram di Milanello, qui sotto c'è il link, ma anche al nostro canale YouTube se non lo avete ancora fatto, che non si iscrive, ti fa la seconda squadra di Milano, che era e sarà sempre la seconda o la terza. Lasciate un like, a presto, dopo.